ciao ragazzi spero tutto bene per voi è sempre un buon momento stare in vigna osservare conoscere capire le vostre piante vi aiuterà sicuramente ad affrontare la prossima stagione di potatura non abbiate molta fretta però aspettate il giusto momento per iniziare a potare sono passati dieci mesi dalla nascita di vimaster pruners academy vimaster pruners academy la prima piattaforma digitale al mondo interamente dedicata alla formazione sulla potatura della vite sono felice di annunciarvi che siamo in 7.000 7.000 potatori insieme dentro la grande casa di vimaster pruners academy attraverso il corso diventa va in pruner impariamo a conoscere la vera natura della vite il suo comportamento la sua morfologia e la fisiologia con il corso va in pruner impariamo a conoscere le reazioni delle piante alla potatura come la buona potatura basata sul metodo simonite circ può aiutare le piante a vivere meglio più a lungo migliorando nelle performance produttive e qualitative è in arrivo una grande novità per voi tutti gli studenti della vimaster pruners academy che hanno ottenuto o otterranno il certificato va in pruner potranno accedere al nuovo corso va in pruner advance il nuovo corso va in pruner advance sarà focalizzato su due delle forme di allevamento più diffuse al mondo il guio ed il cordone speronato per superare il corso advance si dovrà però sostenere anche un esame pratico solo dopo il superamento della parte teorica e pratica si otterrà il certificato va in pruner advance e allora metti alla prova le tue abilità diventa anche tu un va in pruner advance iscriviti anche tu alla più grande comunità di potatori al mondo diventa anche tu un professionista della potatura della vita acquisisci anche tu i certificati di vimaster pruners academy basati sul metodo simonite sirk simonite sirk leader nel mondo nella formazione sulla potatura della vita e allora inizia anche tu il percorso formativo per diventare un vero vimaster pruner certificato visita il sito vimaster pruners.com io sono marco simonite ceo e co fondatore di simonite sirk vimaster pruners